Un'operazione finalizzata alla prevenzione del bracconaggio è stata effettuata nei giorni scorsi dal coordinamento provinciale delle guardie giurate ambientali Accademia Cronos. I controlli hanno interessato in particolare alcune aree dell'agronocerino sarnese e della piana del Sele. Sono state identificate numerose persone trovate in esercizio di caccia e riscontrate alcuni illeciti amministrativi. Particolare attenzione è stata dedicata ai territori del parco regionale del fiume Sarno e dalla riserva Focesele Tanagro dove sono state verificate le presenze di microchip e le modalità di trasporto dei cani.